Ok ci siamo, siamo sul Glob-glob-mer, non riesco mai a dirlo. Dobbiamo andare là, tutto piano degli alti tavoli. Andiamo a prendere un po' di ghiaccio, ci facciamo un mojito con il ghiaccio del ghiacciaio. Motociclisti. Qua sono considerati come loro. Guarda, su queste macchine vedremo di passare via quasi tutte. La fila delle macchine per andare su. Motociclisti per... Il biker è sacro qua. Quasi come un oracolo. Ciao. Ciao.